Grazie a tutti! Grazie a tutti! E' solo tanto che il bello! E' tanto che il bello! E non riuscirete mai con questi qua, tra le piacche, a distruggere le nostre mura! Vi aspettiamo! E' un infernale questo! Ma questo che è la ripetizione? E' un infernale! 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 Grazie a tutti.